Hai presente quella sensazione che hai quando vuoi un abbraccio, magari c'è stata una grande tensione durante tutta la giornata e ti senti i nervi a fior di pelle, ti senti che hai bisogno veramente di sentirti al sicuro e magari quell'abbraccio arriva e finalmente ti senti che la tensione se ne va, quella paura nella pancia va via, il respiro nel cuore è molto più ampio e finalmente ti senti al sicuro, oppure non arriva l'abbraccio e a un certo punto senti che hai bisogno invece di auto rassicurarti per poter stare bene e far finire quella giornata con una sensazione di benessere. Ecco, questo ha a che fare con la bilancia cortisola-ossitocina, cioè il cortisola è l'ormone dello stress che è un antagonista dell'ormone dell'ossitocina che è invece l'ormone della felicità e l'ormone anche della sensazione di sicurezza. Quando s'alza il cortisolo si abbassa l'ossitocina, quando invece s'alza l'ossitocina si abbassa il cortisolo. Nel momento in cui tu impari a gestire bene questa bilancia e a equilibrarti ogni volta, hai in mano una chiave del tuo equilibrio psichico, emozionale, fisico, ormonale. Questa e tante altre chiavi che io darò durante questa conferenza in giro per l'Italia, di cui vedrete le date, è uno dei motivi per cui ho deciso di creare le chiavi della felicità, come la scienza può aiutare il tuo cuore, per darvi degli strumenti, tra cui anche questo, per potervi auto guarire, auto ricentrare nel cuore, capire come funziona il funzionamento del cervello, come funziona il muscolo cardiaco, come funzionano le bilancie ormonali, come funziona anche la matematica del cuore, come è possibile veramente raggiungere uno stato di centratura e di autorassicurazione e di auto anche equilibrio all'interno della propria vita per riuscire a vivere centrati e poter dare il meglio di noi stessi a noi stessi in primis e a tutto quanto il mondo. Vi aspetto!